Buon pomeriggio, ben ritrovati. Il nostro primo appuntamento con l'informazione. Andiamo al Parco Arbostella, dove i residenti e gli utenti della metropolitana leggera protestano per la chiusura ormai da quattro giorni del sottopasso che collega due parti della zona orientale di Salerno, ma la stazione della metro del Parco Arbostella non è l'unica che fa acqua. Chiuso per pericolo allagamento, da un lato fa sorridere soprattutto perché guardando il cielo non si vedono grosse nubi all'orizzonte, dall'altro fa rabbia perché il cartello che sigilla l'ingresso del sottopassaggio tra il Parco Arbostella e via Genelare Clark è qui, da domenica mattina. Quattro giorni dopo, senza alcun tempo rail, i residenti e gli utenti del trasporto pubblico con la metropolitana leggera hanno cominciato a far sentire la loro voce per il disagio legato all'interruzione dell'importante attraversamento sottoferroviario, senza il quale i pedoni sono costretti a coprire un lungo e tortuoso percorso. Quasi pentiti di aver dato l'allarme ai vigili urbani quando il sottopasso si era riempito d'acqua per un problema legato alle pompe che dovrebbero toglierla, i residenti speravano che il Comune riuscisse a risolvere il problema con maggiore celerità, ma quattro giorni dopo e con le previsioni che ora davvero preannunciano temporali, il timore è che la chiusura vada avanti ancora per un bel po'. Allora, se sono le pompe, le faccio aggiustare perché, vabbè, le pompe non sono le pompe, però se… Il sottopasso chiuso diventa difficile fare… No, non si può prendere la metropolitana, dobbiamo utilizzare la macchina, i bambini a scuola non si possono portare. Vanganza di efficienza, secondo me sono stati fatti email, si è chiamata all'assessore, al sindaco eccetera, però la situazione non cambia. Si fanno tante cose meno importanti e poi le cose più importanti si lasciano a desiderare. Ma la stazione della metro del Parco Arbostella non è l'unica che fa acqua. Anche alla fermata di Torrione, un bidone solitamente osato per raccogliere rifiuti, è stato posto al centro del passaggio per raccogliere il gocciolio che arriva dal solaio. In più punti della stazione ci sono evidenti danni prodotti da infiltrazioni d'acqua copiose che fanno sembrare più vecchia della reale etana grafica l'infrastruttura. C'è carenza di manutenzione sugli impianti ed è evidente anche da altri segnali ben visibili. La fontanina per esempio non funziona. Oggi non abbiamo trovato disponibile neanche il servizio informativo né sui display presenti sui binari né su quello situato all'interno della stazione. Andiamo adesso a Montecorvino Rovella dove fa discutere tra le strade ma anche sui social il caso della seconda statuina appartenente alla stessa persona che trasuda sangue. Vediamo. Torna alla ribalta della cronaca per la presunta lacrimazione di sangue dalle statue del bambin Gesù e della Madonna il comune di Montecorvino Rovella dove da tempo nell'abitazione di Giulio Massa sembra si verifichi l'evento miracoloso. L'uomo ha riportato sul web due accadimenti. Una statuina del bambin Gesù piange sangue ma il fenomeno si ripete anche su una statua della Madonna. La prima lacrimazione alle 12.35 del 31 gennaio scorso, la seconda alle 10.30 di ieri. Con uno smartphone la scena del bambinello viene ripresa e il video di due minuti e mezzo pubblicato su YouTube e sul profilo Facebook di Giulio Carmine Massa che possiede le due statuine. Le immagini attraverso la rete vengono rilanciate anche oltreo ceno. Dal 2002 l'uomo, un fruttivendolo di Montecorvino Rovella, documenta queste presunte lacrimazioni ed essudazione di olio e sale dalle immagini in suo possesso. Giulio Carmine Massa, 47 anni, moglie e due figli di 15 e 10 anni. Nel paese in cui vive tutti sostengono che sulle mani, coperte da guanti ginnici, ha delle piaghe dalle quali emana un intenso profumo. Massa è considerato da alcune persone un carismatico. Folli di fedeli recitano con il rosario e gruppi di preghiera seguono le sue ammunizioni, alcuni dei quali nati persino in Brasile e a Melbourne. Sulla vicenda la chiesa è caota. Come sempre in questi casi, Giulio Carmine Massa però ha al suo fianco, nel suo particolare cammino spirituale, anche un sacerdote molto stimato, l'esorcista padre Gennaro Lo Schiavo dell'Avvocatella, famoso santuario di Cava dei Tirreni. Dal sacro o presunto tale al profano emergono nuovi particolari sul furto messo a segno da otto malviventi all'interno della cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania. I ladri hanno utilizzato un'ascia e per attutire il rumore hanno messo un telo. In tre minuti hanno svuotato la teca e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Rifaremo il tesoretto di San Pantaleone. Sin dalle prime ore di questa mattina tanti fedeli che hanno raggiunto la cattedrale di Vallo della Lucania pronti a donare oro e preziosi. La teca, svuotata nella notte tra martedì e mercoledì, non può restare vuota. Ieri pomeriggio, ultimato il lavoro della scientifica, Don Anillo Scavarelli è dato mandato ad un falegname per sistemare la porta scardinata dai malviventi. Dovrà essere sistemata anche la teca distrutta dai ladri. Sul raid, messo a segno da otto malviventi, emergono intanto nuovi dettagli. I ladri, tutti incappucciati e guanti alle mani, sono arrivati a piedi dinanzi alla chiesa. Hanno tentato subito di forzare la porta della sagrestia con un piede di porco. Non ci sono riusciti. Hanno utilizzato allora un'ascia. Per attutire il rumore hanno utilizzato un telo. In tre minuti hanno svuotato la teca, facendo poi perdere le proprie tracce. Ieri pomeriggio Don Anillo ha formalizzato la denuncia presso la caserma dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vallo della Lucania. In serata sono state ritrovate anche le spranghe utilizzate per un furto a circa 400 metri dalla cattedrale, lungo un sentiero di campagna. I carabinieri sono in contatto anche con altri comandi della regione. Sono già stati interrogati nel Salernitano e nel Napoletano, alcuni progiudicati con precedenti porrecettazione. In tre minuti i malviventi hanno privato i vallesi e cilentane di un pezzo di storia. Il tesoretto di San Pantaleone rappresentava il legame con chi nei decenni e nei secoli ha avuto un rapporto vitale e per lui significativo con il santo patrono. Devono far riflettere in merito le parole di Don Luigi Norossi, perché la triste vicenda, sia di monito e continua a suscitare la dovuta riflessione, si propone, dice Don Luigi, di non procedere al ristauro della cassaforte in vetro. Terminate le indagini, quando la magistratura avrà consegnato di nuovo alla fruizione dei fedeli la cappella, sia conservata nella condizione lasciata dagli scassinatori, non per rappresentare la cattiveria di alcuni, ma per ricordare che anche vetri, irreparabilmente distrutti dal nefasto agire umano, possono trovare un medico che tutto guarisce con o senza l'intercessione dei santi. La cronaca svolta nelle indagini per l'omicidio della prostituta Alina Ripa, arrestato a un albanese, si cerca un complice, sotto sequestro anche un hotel a Punticagnano. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alina Roxana Ripa, la prostituta albanese sgozzata e ritrovata cadavere alla Vigilia di Capodanno del 2015, gli agenti della squadra mobile della questura di Salerno hanno bloccato Marco Cristian, 24enne, residente a Salerno da molti anni, mentre sono a caccia di Cadio Iler, 36 anni. Sfruttamento della prostituzione è questo per il momento il reato contestato ai due cittadini di nazionalità albanese per i quali è scattato l'ordine di arresto da parte della magistratura salernitana. La vicenda, come detto, trae origine dal ritrovamento del cadavere della rumena Alina Roxana Ripa, avvenuto il 31 dicembre del 2015. Le indagini svolte dagli uomini della mobile e dirette dal vicequestore Tommaso Nillio hanno consentito di accertare che la ragazza era sfruttata dai destinatari delle misure cautelari. Ilir si è reso irreperibile subito dopo l'omicidio. Marco Cristian è stato stamani rinchiuso nel carcere di Salerno Fuorni, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dal lavoro investigativo si è scoperto che entrambi gli indagati si contendevano le piazzole dove numerose altre ragazze venivano sfruttate. I due, da quanto si è appreso, arrivavano addirittura a vendere i posti da assegnare alle prostitute. Nel corso delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli investigatori hanno accertato che in un albergo che sorge nel territorio di Ponte Cagnano-Faiano era luogo di incontri occasionali tra prostitute e clienti. Per questo motivo il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro della struttura contestando il reato di favoreggiamento della prostituzione. Ancora una brutta storia che riguarda una donna rinchiusa nella gabbia del cane costretta a giacere tra gli escrementi dell'animale, picchiata, violentata, minacciata di morte e torturata fisicamente e obbligata a consegnare all'uomo che la costringeva a fare tutto questo tutti i soldi che aveva. È finalmente terminato il calvario per una cinquantene di giffoni che ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex convivente. Il calvario sarebbe cominciato nel 2013 quando la donna separata ha intrecciato una relazione con un 44enne di giffoni. L'uomo, abbandonati gli iniziali atteggiamenti gentili, avrebbe ben presto rilevato la sua vera personalità trascinando la donna in un tunnel senza uscita. Tra l'altro il 44enne pretendeva che fosse la sua compagna ad addossarsi le rate di un mutuo intestato alla madre ma acceso ad unico vantaggio dell'imputato e per ottenere quei soldi non esitava a malmenare e maltrattare selvaggiamente la convivente. Parliamo adesso di un altro argomento, quello relativo alla rottamazione delle cartelle che riguardano i tributi non pagati. Se Salerno ha deciso di non aderire alla possibilità, dopo Cava dei Tirreni c'è anche un altro comune in provincia di Salerno, Eboli, il comune della Piana del Sele, che ha avviato le procedure per agevolare i contribuenti e stamani al comune il sindaco Massimo Cariello, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato nel dettaglio la manovra che riguarderà anche i tributi sui terreni edificabili. Far emergere l'evasione, il comune di Eboli ha scelto la cosiddetta rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento che punta a far pagare tutti i contribuenti, ma meno. Quasi 4.000 gli evasori totali accertati tra il 2010 e il 2011, oltre 500 gli accertamenti recapitati per tributi sui terreni edificabili. Sono questi i due filoni sui quali l'amministrazione Cariello ha mostrato la sua attenzione, approvando una delibera di giunta comunale che darà la possibilità ai cittadini di Eboli di cogliere le opportunità normative che la legislazione nazionale offre agli enti territoriali. Stamani, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Massimo Cariello e il vice sindaco Cosimo Di Benedetto, assessori al bilancio e programmazione, nel corso di una conferenza stampa, hanno spiegato nel dettaglio la misura che consentirà ai contribuenti di poter usufruire delle agevolazioni previste, presentando un apposito modulo entro il prossimo 2 maggio. Oggi, ad oggi, quasi 500 accertamenti, diciamo, di contribuenti, o ipotetici contribuenti, quali si sono visti, diciamo, recapitare una cartella dei loro terreni, essendo già edificabili dal 2003, quindi a dove pagare quello che è previsto dalla normativa. Ai tanti che dicono di non conoscere, oppure ai tanti che hanno fatto fine di non conoscere, sapendo che comunque ci sono degli strumenti urbanistici, noi ci siamo resi conto, comunque, nelle difficoltà anche della pianificazione urbanistica e della capacità edificatoria del nostro territorio di dare una mano, di dare un supporto a questi contribuenti, almeno fino a 2017, in cui abbiamo individuato, attraverso dei criteri prestabiliti, per esempio le aree di rispetto, laddove non è stato adottato e approvato un subambito o altri casi simili, come anche nell'area PIP, abbiamo individuato, diciamo, delle agevolazioni che vanno da 40% all'80%, a seconda, diciamo, delle tipologie e dei casi. Io credo che questo è un segnale importante, io l'invito che faccio a tutti quanti è quello di legarsi immediatamente, noi stiamo già predisponendo, diciamo, una campagna di comunicazione, diciamo, una modulistica, anche affinché davvero possono, diciamo, a tempo stesso accertare, e quindi abbiamo poi il quadro chiaro della situazione, fare cassa, contemporaneamente, perché poi uno che si trova a dover affrontare un problema, ma avere uno scondo consistente, va a pagare immediatamente, quindi è cassa che entra nell'ambito dell'amministrazione comunale e incominciare a fare una politica dove pagare tutti per pagare meno. A che cosa abbiamo pensato? Di una manovra sviluppata su più punti. Il primo è quello, ovviamente, immediatamente successivo ai sopralluoghi che hanno incentivato quest'operazione, il ravvedimento operoso, per cui i contribuenti possono ravvedersi e quindi operare delle denunce anche prima che arrivi la SOGET, sono agevolati in questo senso, pagando una sensione bassa. Il secondo era quello, ovviamente, del consolidato, l'ingiunzione. E in questo caso ci ha anche soccorso un poco la normativa nazionale con la cosiddetta rottamazione. Questa rottamazione a cui il sindaco ha voluto aderire, a differenza di altri comuni, che cosa ha comportato? Ha comportato che per le ingiunzioni, quindi per il consolidato, parliamo di ruoli fino al 2013, per l'ICI, Imo, fino al 2010, per la Tarsu, ripeto, per queste ingiunzioni ci sia un abbattimento della sanzione. La sanzione è considerevole dal momento che l'ingiunzione presenta, nelle sue voci dettagliate, l'imponibile, che va pagato assolutamente, ma una sanzione che è il 100% dell'imponibile da dove ci sia omissione di denuncia ed è il 30% nel caso in cui ci sia omesso pagamento. Per cui, chi vuole emergere e che vuole pagare, viene agevolato dal comune di Eboli pagando, diciamo, il 50% dell'ingiunzione, fondamentalmente, perché c'è un abbattimento considerevole per quanto riguarda le sanzioni. In ultimo, c'è quella che è l'operazione sugli avvisi di accertamento che ha spiegato, ovviamente, il sindaco per le aree fabbricabili. C'è un'altra categoria interessata alla rottamazione delle cartelle ed è quella dei commercialisti che questa mattina hanno partecipato numerosi ad un convegno organizzato dall'Ordine proprio per discutere delle novità introdotte dalla rottamazione. La rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia è uno degli argomenti più discussi in questo momento non solo tra gli amministratori pubblici che hanno detto sia l'opportunità di eliminare le sanzioni per le multe non pagate ma anche per i contribuenti in mora che guardano la possibilità di mettersi in regola. Proporzionale interesse arriva naturalmente anche dai profili professionali interessati all'applicazione del decreto. La massiccia partecipazione registrata questa mattina all'incontro di telefisco promosso dall'Ordine dei commercialisti di Salerno in videoconferenza con il sole 24 ore ne è una conferma. Anche a Salerno le domande sono tantissime ed il presidente dell'Ordine auspica una possibile proroga per poter dare la possibilità alla stessa Equitalia di rispondere alle istanze presentate. L'interpretazione delle norme è davvero complicata. Poi per la verità in questo momento non è uscita ancora una circolare sulla rottamazione delle cartelle che permette diciamo di avere una facilità di accesso a questa agevolazione. Tra l'altro stamattina già c'è stato l'intervento sulla rottamazione con qualche risposta a qualcosa voglio dire forse in più l'abbiamo capita. la vera difficoltà è che c'è una grandissima affluenza quindi noi ad Equitalia abbiamo delle difficoltà ad ottenere immediatamente gli estratti di ruolo poi successivamente per poter accedere all'agevolazione. Quindi lo sforzo comune io sto firmando una convenzione con Equitalia per accelerare il processo però vorrei spezzare una lancia anche a favore dell'istituzione Equitalia purtroppo c'è talmente tanta mole che alla fine la difficoltà è proprio questa cioè non hanno un numero sufficiente di persone che in questo momento possa supportare la molle di lavoro che deriva dall'accesso alla rottamazione però sicuramente ci stiamo deporeando per ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. E come ci sono delle scadenze? La scadenza è il 31 marzo c'è un altro po' di tempo però se ci fosse una proroga probabilmente saremo tutti più tranquilli perché in questo momento ci sono studi che hanno mandato 50, 60, 100 domande per accedere a questa agevolazione però purtroppo le risposte sono molto lente ripeto purtroppo perché l'affluenza è tantissima. gestire in house il servizio di sosta dell'ospedale San Giovanni di Due Ruggi d'Aragona di Salerno e cancellare privilegi per medici dirigenti e professori universitari nel parcheggio interno della struttura di via San Leonardo a chiederlo al manager Nicola Cantone sono i segretari della UIL provinciale Biagio Tomasco e Giuseppe Natella una richiesta che arriva alla luce delle disposizioni emanate il 31 gennaio scorso dal direttore dell'azienda ospedaliera in merito al servizio di sosta all'interno del presidio di via San Leonardo secondo l'organizzazione sindacale la tempestività della disposizione non è stata delle migliori considerando che il passaggio da un sistema a un altro potrebbe essere fonte di diatriba tra gli utenti e controllori per la qualcosa scrive la UIL sarebbe stato meglio un periodo di transizione per abituare tutti alle nuove disposizioni il sindacato chiede a Cantone di applicare le nuove disposizioni a tutti i fruitori del parcheggio interno eliminando ogni forma di privilegio per chi che sia in modo da allenare tutti gli stessi obblighi e responsabilità ancora una notizia di cronaca che riguarda una nave Ansofì che gli uomini della guardia costiera di Salerno hanno fermato da accurati controlli sembra che la nave presenti carenze in merito al sistema di gestione delle dotazioni di bordo il provvedimento è stato adottato dopo un'ispezione a bordo in particolare sono risultati scaduti i test del trasmettitore di soccorso alla stazione satellitare la scialuppa di salvataggio e l'ispezione annuale alle zattere di salvataggio una pausa pubblicitaria a tra poco sarà il premio Oscar Leonardo DiCaprio ad interpretare i panni del poliziotto italo-americano Gio Petrosino originario di Padula nell'adattamento di Black Hand il libro di prossima pubblicazione scritto da Stephen Telti e l'oscar va a Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio vestirà i panni di Gio Petrosino nell'adattamento di The Black Hand libro di prossima pubblicazione scritto da Stephen Telti a riferirlo è il magazine Deadline si tratta di un romanzo ambientato nella New York City d'inizio novecento dove il poliziotto Gio Petrosino originario di Padula è impegnato a combattere una serie di crimini che portano la firma della mano nera di Don Vito Cascio Ferro le sue ricerche lo porteranno fino a Palermo dove verrà ucciso dalla mafia a colpi di pistola il 12 marzo del 1909 a Piazza Marina il film che sarà prodotto dallo stesso DiCaprio con la sua Appian Way mentre verrà distribuito dalla Paramount potrebbe portare il divo americano premio Oscar fino a Palermo dove lo Sherlock Holmes italiano quel giorno pensava di incontrare un informatore confidenziale che avrebbe dovuto aiutarlo a risolvere delle indagini e invece trovò la morte le previsioni del tempo vai subito dopo l'informazione sportiva in collaborazione con Expert Gruppo Somma Offertissime Last Minute compri oggi e paghi dopo Pasqua TV Samsung 32 pollici LED HD Ready a 199,90 euro iPhone 7 32 giga a 699,90 euro Offertissime Last Minute compri oggi e paghi dopo Pasqua solo da Expert Gruppo Somma Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo ed eccoci con la nostra informazione sportiva la Salernitana adesso pensa al campionato Bollini è alle prese con gli infortuni di Della Rocca e Donnarumma i due sono in forte dubbio per la gara di sabato contro il Novara sta meglio in Prota ipotesi cambio modulo in Prota recupera Donnarumma e Della Rocca no o almeno non ancora resta l'emergenza in casa Salernitana soli due giorni dal match allo Stadio Arecchi contro il Novara di Boscaglia tra infortuni squalifiche e mancati arrivi Bollini si ritrova con gli uomini contati a partire dalla squalifica rinediata da Ronaldo diventato in pochissimo tempo da possibile partente a uomo imprescindibile nello scattiere disegnato dal tecnico il brasiliano è l'unico in grado di dettare finalmente i tempi di gioco di una Salernitana che da troppo tempo non sapeva a chi affidare le chiavi del proprio centrocampo ma contro il Novara dicevamo il playmaker brasiliano sarà costretto allo stop forzato per squalifica un'assenza importante pesante che probabilmente inciderà sulle scelte tattiche di Bollini 4-4-2 o 3-4-3 impossibile deciderlo ora oltre all'assenza di Ronaldo infatti c'è da valutare l'infermeria Granata gli infortuni restano un tema per nulla decifrabile anche nell'allenamento di stamane svolto al Campovolpe infatti Bollini ha dovuto rinunciare a Della Rocca e Donnarumma costretti soltanto a sedute fisioterapiche Della Rocca alle prese con la solita caviglia destra Galeotta Donnarumma al solito problema al polpaccio entrambi sono a serio rischio forfè per dopo domani con Ogerra ancora lontano dal possibile rientro in campo l'emergenza al centrocampo è fin troppo evidente sabato dunque potrebbe toccare a Minala affiancare Busellato in mezzo al campo chi ha certamente più chance di giocare la prima da titolare è bitante a prescindere dal modulo che verrà scelto mentre per Sprocati tutto dipenderà invece dalla soluzione tattica prima però Bollini dovrà capire chi potrà depennare da una lista che nelle prossime ore si augura possa diventare molto meno nera il mercato di gennaio va in soffitta la Salernitana chiude il bilancio con un pareggio quattro entrate altrettante uscite probabilmente però all'appello manca un centrocampista che avrebbe potuto essere la ciliegina per il salto di qualità è mancato il colpo ad effetto è mancato il tassello per completare il puzzle è mancato il centrocampista invocato da Bollini una senza che ironia della sorte quasi per uno strano scherzo del destino sabato prossimo contro il Novara rischia subito di farsi sentire per certi aspetti si potrebbe dire che potrebbe essere mancata l'idea il guizzo la lampadina accesa volendo dare per buona l'ipotesi che non c'era la disponibilità di investire ulteriormente laddove non si fossero concretizzate prima delle uscite è il bilancio della chiusura del mercato di gennaio alla vigilia della sessione il DS Fabiani aveva detto di essere a caccia di quattro rinforzi tanti sono stati i calciatori ingaggiati altrettanti quelli ceduti la Serenitana ha badato a pareggiare i conti tra entrate ed uscite lasciando pure qualche casella vuota nella lista di 18 over a meno che non si decida di inserire Grillo o Rosti e prestando attenzione anche al bilancio non essendo riuscita a trovare sistemazione a Schiavi e Zito infatti la società Granata ha evitato di ingaggiare altri elementi eppure in difesa sarebbe stato utile un tersino sinistro di scorta e soprattutto un centrale mancino queste due lacune sussistono anche dopo la chiusura del mercato di riparazione in difesa via Laverone e Franco è arrivato Bittante un corsore di fascia duttile e versatile molto però dipenderà dal modulo che Bollini adotterà di volta in volta con la difesa a quattro infatti Bittante potrebbe contendere a Perico la maglia di tersino destro ma avendo spiccate propensioni offensive in questo ruolo potrebbe pagare Dazio in fase di copertura con la difesa a tre invece l'ex di Avellino e Cagliari è destinato ad entrare in concorrenza con Improta un tornante puro che si è riciclato da stantuffo a tutta la fascia fornendo prestazioni convincenti e meritando la fiducia di Sannino prima e Bollini poi in mediana poi è stato aggiunto al risicato pacchetto di centrocampisti Joseph Milala che in quanto under non va ad incidere sul numero dei calciatori da inserire in lista ma che al tempo stesso per via di una lunga assenza dei campi rischia di poter incidere assai poco anche sulle sorti del reparto proprio al centrocampo però Bollini avrebbe gradito un'aggiunta importante ed infatti si è provato con crimi senza successo ironia della sorte come dicevamo sabato contro il Novara è subito emergenza è bastata una squalifica di Ronaldo o un raffreddore di Della Rocca per creare problemi di organico il tutto è giusto precisarlo in attesa del recupero di Auger e dei progressi di condizione di Minala Zito invece pare destinato a trovare sempre meno spazio in attacco poi la partenza di Caccavallo è stata compensata dall'arrivo di Sprocati elemento che può essere impiegato in più moduli ma che ha anche giocato poco da titolare a Bercelli il mercato di gennaio va in soffitta con tanti dubbi e quell'idea che sarebbe potuta essere vincente La pubblicità tra poco Continuiamo con il calcio presentati questa mattina in casa Paganese i nuovi acquisti si tratta di un'autentica rivoluzione in casa azzurro stellata con ben 10 nuovi volti ascoltiamo l'intervista al DS della Paganese Fabrizio Ferrigno Una Paganese noi non per caso abbiamo quasi rivoluzionato la difesa perché abbiamo avuto secondo me troppi problemi a livello proprio di subire molti gol per ingenuità e allora lì è stato il reparto un po' più martorizzato anche nelle entrate è una cosa che avevamo già prefissato molto tempo fa perciò siamo andati anche sui giovani forti sui giovani bravi sperando che ci diano da subito una mano ma il grosso lavoro non è stato fatto solo in entrata ma siamo una delle uniche società secondo me che abbiamo fatto in uscita tanti calciatori e non pesano sulla società che li teniamo a busta paga come tantissime altre società che hanno fatto un passo indietro e hanno rintegrato i propri calciatori secondo me questo è un grossissimo lavoro l'unica arma a sfavore nostro è il tempo il tempo perché noi abbiamo un allenatore molto esigente un allenatore che lavora tantissimo rispetto alle altre squadre che si vedono che è un po' un fai da te noi il mister lavora tantissimo palla a terra tantissimo lavorano le catene e questa è l'unica nota un po' stonata per il proseguo del campionato ma siccome noi abbiamo preso giovani validi un mix di vecchietti tra virgolette sono rimasti noi speriamo che ottimizziamo i tempi proprio perché i ragazzi anche nel sentir parlarli e anche quando li ho chiamati prima del mercato e durante il mercato loro sono dei ragazzi molto applicati dei ragazzi che sono venuti qui per fare solo ed esclusivamente bene e sperare in un futuro un po' più rosio passiamo alla palla a volo Ivan Castiglio il nuovo allenatore della due principati il tecnico di origini peruviane debutterà in panchina domenica prossima alle 18 nella sfida casalinga alla Sigel Marsala Castillo ritorna in provincia di Salerno dopo le esperienze nel capoluogo ascafati in serie B1 dopo aver incontrato la società il direttore sportivo Franco Cutolo il nuovo coach bianco rosso blu ha già avuto un primo approccio con le atlete e si è dedicato alla preparazione della prossima gara di campionato la seconda del girone di ritorno la due principati ha bisogno di avere risposte immediate sul campo al proprio investimento la struttura societaria c'è ma la parte sportiva è in debito e bisogna ridarle brio queste le prime parole di coach la stagione per quello che mi hanno raccontato è stata fin qui piena di vicissitudini e questo non ha aiutato il collega che c'era prima è palese che questa squadra abbia bisogno di vincere più di ogni cosa però ha bisogno di certezze che danno fiducia Castiglio sostituisce sulla panchina della P2P Pierpaolo Veglia ed è tutto termina qui il nostro appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti grazie a tutti